Il tasso di crescita per le aziende e per l'industria in particolar modo è a valore zero, cioè siamo fermi lì. Arezzo in piena stagnazione, specchio della realtà italiana, il dato di crescita industriale è pari a zero. È il segretario provinciale della CGL di Arezzo Alessandro Mugnai che snocciola e commenta i dati alla vigilia del primo maggio, festa dei lavoratori che ad Arezzo sarà celebrata con un corteo che partirà dalla prefettura e terminerà in piazza Saiacopo con un comizio dove parteciperanno anche le vittime delle salvabanche. Sono dati brutti, orrendi, non c'è strategia industriale in questa provincia, non c'è volontà di creare una vera e propria coscienza economica, fermarsi, comprendere come stanno le cose, che cosa abbiamo perso, che cosa abbiamo a disposizione, cosa possiamo fare. Il dato più preoccupante secondo Mugnai è quello dell'occupazione, quanti posti di lavoro sono stati persi tra i dipendenti e poi il saldo negativo tra le entrate e le uscite dal mondo del lavoro. Se confrontiamo il 2014 e il 2015 abbiamo per esempio tra i lavoratori dipendenti oltre 2.000 posti di lavoro in meno. Nel 2013 avevamo 93.000 posti di lavoro contro i 104.000 del 2008, nel 2014 ne abbiamo 91.000, nel 2015 89.000. Se qualcuno vuole parlare di ripresa ci faccia capire questa ripresa dov'è. Probabilmente è in quel tipo di lavoro che non riusciamo a comprendere dove va, che sono i voucher, dove si creano le peggie ingiustizie, le false partite IVA. E questo è un tema da domandarsi. In particolar modo quello che mette a tacere tutti è il rapporto tra i lavoratori dipendenti, le entrate e le uscite dal mercato del lavoro. Nel 2014 avevamo un meno 2.736, nel 2015 un meno 3.397. È ovvio che di fronte a questa roba Selvo non scelte più di larga scala, ma che succhi di frutta. Poi va bene anche Kelly, ma è ovvio che dobbiamo puntare a ricreare posti di lavoro e per questo ci vuole strategia.